I ragazzi vogliono fare una prova sui scogli, una corsa sui scogli, un po' rischioso, io no, ma non fiega. Sì, ragazzi, 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 ragazzi. No, no, no. Sono am程ata a fare una scelta. Diciamo che all'ultimo ha fatto una bella curva il nostro Marvino, il vincitore di questa partita. Per Mattia sicuramente. E in Ria. Brauma! Allora, alla prossima! Sous-titrage Société Radio-Canada